Dopo tantissimo tempo, quasi 40 anni, sono tornato qua al Lazzaretto Nuovo. Mi ricordo che mio papà venivamo qua d'inverno a fare le prime foto al Tesuon Grande che adesso è stato straordinariamente recuperato e ogni volta che torniamo è un'isola nuova nel senso che migliore e migliore e migliore si scoprono e si trovano reperti e testimonianze nuove. Per me, che sono veneziano, che sono nato qua, è un'emozione ogni volta e ringrazio le associazioni che se ne stanno occupando e che ci consentono di mantenere in vita un patrimonio inestimabile.